L'Europa è una grande opportunità, ora che finalmente se ne discute di più, anche dividendoci nelle opinioni su questa grande impresa, è il momento di mettere sul piatto tutti i vantaggi e tutti i problemi e di scegliere da che parte stare. Io sto per l'Europa perché ci garantisce un territorio di diritti, perché ci garantisce un territorio di benessere, perché ci garantisce un territorio di valori condivisi, costruiti da una lunga storia. È una lunga storia fatta di momenti difficili, fatta di errori dei quali abbiamo appreso e quindi anche da momenti radiosi e soprattutto da grandi promesse per il futuro.